Gentili elettori di Riviera24, ben trovati, benvenuto a Luigi Sappa, candidato al prossimo Consiglio regionale. Sappa, l'appello al voto. Votando Luigi Sappa votate un candidato al Consiglio regionale che rappresenta un grande movimento esteso sul territorio che raccoglie coloro che affondano le radici nei cristiani, nei socialisti riformisti, nei liberali, coloro che credono nel garantismo e in un'Europa, un'Europa che ci offre una grande opportunità. Andare in regione per me significa raccordare questo movimento aperto a tutti e contro nessuno per cogliere gli aspetti più salienti di quello che sarà il nuovo piano Marshall dell'anno del 2000, del nuovo secolo. È importante, è importante che il ponente Ligure abbia a Genova un'antenna, abbia a Genova chi stimoli l'azione dell'amministrazione Toti, per il quale noi corriamo, e faccia valere le ragioni del territorio. Noi stiamo facendo la campagna elettorale breve, calda ma ritmata, proprio per cogliere gli aspetti più salienti dell'entroterra e della costa. Una costa che domanda più infrastrutture, un'entroterra che chiede fortemente più sostegno. Raccordare queste esigenze vuol dire inquadrarle in quello che il Recovery Fund potrà avere nella nostra provincia, nella nostra regione. Stiamo lavorando ad alcuni temi, io andrò a fare il consigliere regionale, colui che siederà il tavolino e studierà le leggi da proporre poi al consiglio regionale, in accordo con il territorio, in accordo con i sindaci, in accordo con le associazioni, con tutti coloro che hanno delle proposte da fare. Lavorerò in questo senso e non disperderò un solo minuto del mio tempo a disposizione nei cinque anni a venire. Se credete che ci sia un progetto come c'è e questo progetto sia forte e sostenuto e necessario per il territorio, io sono a disposizione. Penso di avere gli strumenti per far valere le ragioni del territorio in maniera equa e equilibrata per tutta la Liguria. Grazie Sampa, invoca al lupo come a tutti anche a lei e grazie a voi per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.